Ciao, sono Francesco Basile, il pastore di Equipers Roma, e voglio presentarti un progetto che stiamo per lanciare il 27 gennaio 2020. Se il tuo sogno è servire Dio, se il tuo sogno è conoscere, far crescere e comunicare al mondo i talenti, i doni e i tesori che Dio ha messo dentro di te, Equipers Roma, con il suo programma di scuola biblica Advance, è il posto giusto per te. Dedica un anno a Dio, sarai coinvolto in tutte le nostre attività, dal lunedì alla domenica, visita il nostro sito, guarda il programma, pregaci su, dedica un anno a Dio, senti la chiamata di Dio, vogliamo aiutarti a scoprire i talenti che Dio ha depositato dentro di te. Advance Program, il 2020 è dietro le porte, e tu puoi entrare a far parte di questa squadra, Dio vi benedica.